E allora, ciao ragazzi, scusate l'assenza, però sono stato molto impegnato e quindi non ho avuto il tempo di fare un video nuovo. La lezione, quindi oggi vi parlerò, vi farò una lezione sul modo in cui si disegnano le siepi, quindi gli alberi, e sull'inchiostrazione. Ve lo spiegherò, ci sono vari stili, quindi per fare siepi, alberi, o rocce, qualsiasi cosa. La tecnica che vi spiegherò io oggi sarà una tecnica che si basa, è una tecnica che viene utilizzata da molti maestri per non utilizzare gli screen tone, quando andiamo a disegnare, quindi alberi o siepi. Quindi si baserà solo sul bianco e nero. Questo è un lavoro che avevo fatto io a scuola, ora poi lo useranno per, è stato preso come modello per farlo usare a quelli del secondo anno, quindi dell'anno nuovo, perché io ora a marzo appunto mi laureerò, quindi finisco la scuola. E quindi hanno fatto delle, i professori hanno fatto delle fotocopie e le distribuiranno poi a quelli del secondo anno. Vabbè, vando alle ciance. Un attimo che giro la telecamera perché sono in una situazione provvisoria. Sul momento. Un attimo. Un attimo. Grazie.